Ciao, sono Lorenzo e bentornati su Mi Offro Io. In questo episodio 7 della serie dedicata all'educazione finanziaria vediamo finalmente cosa significhi investire. Da tutto quello che abbiamo imparato negli scorsi episodi, investire i propri risparmi significa sostanzialmente o usarli per comprare qualcosa o per prestarli ad un altro soggetto, ovviamente con lo scopo di ottenere, dopo un certo periodo di tempo, una somma più elevata rispetto a quella che ho investito, cioè di ottenere un rendimento, ovviamente nel futuro. Tendiamo spesso a darlo per scontato, ma è bene ricordare che siccome non esistono stregoni con la palla di vetro che riescono a predire il futuro, il futuro per sua stessa natura è incerto. Chi avrebbe detto per esempio nell'autunno del 2019 che di lì a pochi mesi avremmo vissuto una delle più gravi pandemie della storia? O chi avrebbe detto l'anno scorso, a gennaio, che di lì a poco tempo la Russia avrebbe invaso l'Ucraina? O ancora chi avrebbe immaginato un mese fa che appena la settimana scorsa si sarebbe riacceso con tanta violenza uno dei conflitti più longevi della storia recente? Ebbene, se eventi tanto epocali sono così difficili da prevedere, pensate quanto ci possa essere di certezza in qualcuno che vi dice che il rendimento tra dieci anni del vostro investimento sarà del 3 o 5% annuo. Ad ogni investimento corrisponde quindi, per sua stessa natura, un rischio. Il concetto di rischio è un concetto molto più sfaccettato di quanto tendiamo ad afferrare intuitivamente. Se per esempio attraversiamo la strada senza guardare stiamo senza dubbio correndo un rischio, cioè c'è una certa probabilità, che sarà più o meno grande a seconda che stiamo attraversando una stradina di campagna o una strada del centro di Roma, di finire noi investiti. Secondo la definizione più semplice, quella che va bene per questa serie, il rischio è l'eventualità di subire un danno, connessa a circostanze più o meno prevedibili. Quindi questa definizione racchiude, nel caso del nostro investimento, il fatto che il nostro investimento possa andare male, cioè alla fine ci ritroviamo con meno soldi rispetto a quelli che avevamo investito, e anche che questa eventualità possa accadere o non accadere con una certa probabilità. Ma purtroppo noi esseri umani siamo un po' scarsi a gestire intuitivamente la probabilità, cioè a ragionare in termini di probabilità che qualcosa accada o non accada. Ed è per questo motivo che ci viene in nostro aiuto la matematica, che aiuta a formalizzare questi concetti. E quindi da un lato sarebbe bene conoscere i fondamenti della teoria della probabilità, che però non abbiamo il tempo di fare in questa serie, e dall'altro è ovviamente opportuno affidarsi a persone esperte. Una regola d'oro però possiamo dirla. A rendimenti maggiori corrispondono rischi maggiori. E questo possiamo pensarlo anche intuitivamente, perché se presto dei soldi ad una persona o ad un soggetto che so che già in passato più volte ha dimostrato di non saperli restituire o di restituirne di meno, sarò tentato di chiedergli un interesse maggiore, cioè di chiedergli alla scadenza del prestito di restituirmi non solo i soldi che gli ho prestato, ma anche dei soldi in più, in modo tale da pregnare o prezzare il rischio che sto correndo. Se le cose vanno male non mi restituirà nulla, ma se le cose vanno bene mi restituirà più soldi rispetto a quelli che mi sarei potuto aspettare. Questo concetto è fondamentale quando si parla di investimenti, cioè che a rendimento maggiore corrisponda rischio maggiore. Quindi scolpitevelo bene in testa. Un altro fattore da considerare è il tempo. Se sposto più in avanti nel tempo la scadenza di restituzione di quanto ho prestato, più tempo ci sarà perché nel frattempo le cose possono andare bene o possono andare male. Di conseguenza il rischio e anche il rendimento saranno maggiori. In realtà però esistono dei titoli per cui il rendimento nel lungo periodo è inferiore a quello nel breve periodo. È un caso particolare di cui però non parleremo. I tre ingredienti che caratterizzano un investimento sono quindi il rendimento, il rischio e il tempo e abbiamo visto come siano legati gli uni agli altri. Siccome le combinazioni sono molteplici non esiste un investimento che vada bene per tutti. Beh sì, ogni persona avrà le proprie esigenze e i propri desideri da soddisfare e soprattutto ognuno avrà una diversa tolleranza al rischio. Per fare un esempio un neolaureato che ha appena iniziato a lavorare potrà investire con un orizzonte di più lungo periodo e potrà tollerare un rischio maggiore rispetto invece ad una persona di mezza età che deve pagare gli studi ai figli e deve anche risparmiare per la pensione. La propensione al rischio è poi anche un fatto personale psicologico se siamo particolarmente ansiosi e controlliamo tutti i giorni l'andamento dei nostri investimenti potremmo soffrire nel vedere le fluttuazioni anche marcate di breve periodo e magari perdere di vista l'andamento magari positivo nel lungo periodo. L'irrazionalità nella gestione delle risorse economiche nell'economia e nella finanza in generale è un tema vastissimo che ha portato anche a un premio Nobel ma ne ho parlato in un video di qualche anno fa che vi linko qui in alto. Notate comunque che il rischio non si può eliminare del tutto e anche decidere di risparmiare semplicemente mettendo i soldi sotto al materasso non è la scelta più saggia perché il loro valore può diminuire nel tempo a causa dell'inflazione di cui abbiamo già parlato nell'episodio 3 e poi anche perché ci sono diversi livelli di rischio e quindi razionalmente non ha senso cercare di evitarlo del tutto bensì il rischio si può gestire gestire il rischio significa ragionare in termini di probabilità di probabilità che eventi positivi o negativi succedano o non succedano e quindi adottare strategie di conseguenza in modo tale da garantirci da un lato buoni rendimenti e dall'altro di dormire sonni tranquilli esistono professionisti che di mestiere aiutano i clienti ad investire i propri risparmi vi dirò quali perché questa serie non è sponsorizzata ma se decidete di fare da soli o decidete di affidarvi a un esperto sappiate che esistono dei rischi ma che esiste anche un modo di gestire questi rischi non di eliminarli di gestirli come ho detto all'inizio del video quando investiamo i nostri risparmi possiamo farlo sostanzialmente in due modi o comprando qualcosa quindi acquisendo una proprietà o prestandolo a qualcuno e dunque generando un credito o un debito a queste due forme di impiego corrispondono le due principali forme di investimento che vengono scambiate sui mercati finanziari le azioni o in inglese stocks o più precisamente shares e le obbligazioni in inglese bonds se acquistiamo un'azione diventiamo a tutti gli effetti proprietari di un pezzetto di una società per azioni per esempio un'impresa che si è quotata sul mercato ma esistono anche imprese non quotate le azioni sono infatti dei titoli che riconoscono al titolare la partecipazione all'attività economica della società e quindi alla condivisione dei guadagni che vengono distribuiti sotto forma di dividendi alla partecipazione alle decisioni nell'assemblea dei soci con il diritto di voto e alla condivisione dei rischi perché se la società va male anche l'azionista vedrà ridursi il valore delle proprie azioni dicevamo che le azioni possono essere scambiate sui mercati finanziari cioè posso comprarle o venderle ad altri o da altri soggetti e il loro prezzo sarà determinato dal punto di incontro tra la domanda e l'offerta come abbiamo già visto nell'episodio 1 generalmente le azioni sono molto volatili cioè il loro valore può fluttuare in modo molto marcato da un giorno all'altro al contrario però sul lungo periodo esse tendono a riflettere i cosiddetti fondamentali della società in questione cioè per esempio se un'impresa ha una buona idea e vende un prodotto o un servizio di qualità per quanto il valore delle azioni possa fluttuare di giorno in giorno sul lungo periodo tenderà a crescere le obbligazioni sono invece dei prestiti quando compro un'obbligazione da un certo emittente può essere per esempio un'impresa una banca o lo stato in quel caso si chiamano titoli di stato e ne riparleremo sto effettivamente prestando del denaro a questi soggetti questi soggetti si impegnano a restituirmelo ad una data scadenza insieme con un certo interesse questo interesse può anche essermi corrisposto con delle cedole annuali cioè mi viene restituito a ogni anno una parte di questo interesse con un tasso di interesse che può essere fisso oppure variabile chi emette un'obbligazione è tenuto alla scadenza a restituire quanto preso in prestito altrimenti si ha il cosiddetto fallimento dell'emittente esistono anche delle obbligazioni dette subordinate che sono più rischiose rispetto a quelle ordinarie perché in caso di fallimento queste vengono rimborsate dopo quelle ordinarie nel caso la società abbia ancora soldi per rimborsarle come le azioni anche le obbligazioni possono essere scambiate sui mercati finanziari e quando compro un'obbligazione da qualcun altro sto sostanzialmente comprando il diritto a riavere indietro i soldi che sono stati prestati all'emittente in particolare il valore con cui vengono scambiate le obbligazioni sui mercati finanziari sarà influenzato da quale sia il tasso di interesse a cui vengono emesse in quel particolare momento delle nuove obbligazioni con un meccanismo di cui però parleremo meglio più avanti questo valore al contrario delle azioni tenderà a fluttuare di meno di giorno in giorno però questo ha il prezzo che nel lungo periodo il rendimento delle obbligazioni sarà minore rispetto a quello delle azioni quindi ricapitolando in ogni investimento esistono tre fattori fondamentali il rendimento il tempo e il rischio che sono legati gli uni agli altri il rischio in particolare non è eliminabile ma siccome in questo video abbiamo visto che esistono strumenti diversi ad esempio le azioni le obbligazioni emesse da società diverse beh la scelta più saggia come anche vedremo più avanti è proprio quella di diversificare cioè non mettere tutte le uova nello stesso paniere suddividendo i nostri risparmi in tanti strumenti o prodotti finanziari diversi quindi diversificare potremmo complessivamente ridurre il rischio senza sacrificare poi troppo in termini di rendimento questo era tutto quanto volevo dirvi in questo settimo episodio dedicato agli investimenti parleremo ancora di investimenti nel prossimo quando parleremo di capitalizzazione composta grazie per avermi seguito condividete questo video e vi aspetto poi nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video grazie per avermi seguito Grazie a tutti